Salve ragazzi e ben ritrovati sul canale. Sono qui per parlarvi del possibile annuncio di un nuovo titolo, un nuovo picchiaduro completamente next gen, in particolare il primo picchiaduro veramente next gen, perché fino ad adesso non ne abbiamo avuti, abbiamo avuto riedizioni come ad esempio Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 11 per PS5, ma un vero picchiaduro next gen non c'è ancora stato. Perché potrebbe succedere questa cosa? Come vedete dalla pagina che ho davanti, il 16 di ottobre si terrà il DC FanDome, che è un macroevento per tutti gli appassionati della DC Comics. Tra gli ospiti di questo DC FanDome ci sarà Ed Boon. Ed Boon, principale produttore, principalmente dietro Netherrealm, e soprattutto dietro i giochi Mortal Kombat 10, 11, tutta la serie Mortal Kombat, e la serie Injustice che ci interessa in particolare. Come sappiamo tutti, Injustice è un picchiaduro basato sui supereroi della DC Comics, quindi potrebbe essere il palcoscenico ideale per affrontare questo tipo di discorso, finalmente annunciare un nuovo picchiaduro next gen. Questo deriva dopo tanti mesi di silenzio e dopo l'interruzione al supporto di Mortal Kombat 11. È stato chiaramente detto da Ed Boon e da Netherrealm che il supporto a Mortal Kombat 11 si è interrotto perché stanno lavorando su un nuovo progetto. Questo nuovo progetto potrebbe essere Injustice 3, ma a detta di molte fonti abbastanza autorevoli del giornalismo internazionale, potrebbe anche non essere così. Perché a quanto ho capito, a quanto ho letto, a quanto si dice, ricordiamo che sono soltanto rumor, Ed Boon sarebbe più predisposto a fare un Mortal Kombat 12 piuttosto che un Injustice 3. Perché la situazione di Warner e la situazione dell'acquisizione possibile di Netherrealm da parte di altre compagnie metterebbe un po' il discorso Injustice al rischio, perché ovviamente non potrebbero utilizzare dei supereroi di DC Comics sotto un'altra bandiera qualunque essa sia. Io adesso non voglio addentrarmi in questi discorsi anche perché non riguardano strettamente il genere picchiaduro. Quindi potrebbe essere diverso l'annuncio, potrebbe essere diverso il progetto che hanno in mente i ragazzi di Netherrealm, potrebbe essere un Mortal Kombat 12 piuttosto che un Injustice 3. Vedremo, vedremo che cosa succede, per il momento appuntamento al 16 di ottobre con il DC FanDome. Io veramente lo seguirò, anche se non sono un grandissimo fan della DC Comics, però sono curioso di vedere che cosa succederà e se ci sarà un annuncio. Volendo scommettere su un annuncio di un picchiaduro next-gen da parte di Netherrealm, i palcoscenici possibili sono due. Questo DC FanDome specificamente per Injustice, perché non avrebbe senso annunciare un Mortal Kombat 12 durante un evento dedicato alla DC Comics, oppure i The Game Awards, come è successo per Mortal Kombat 11, se non vi ricordate male. Il primo di questi due eventi si svolgerà a brevissimo, vi ricordo il 16 ottobre, quindi dite incrociate e speriamo che ci sarà un annuncio. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao! Ciao!